È urgente che l'Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti di questa regione e metta l'allargamento ai Balcani Occidentali tra le sue priorità. Noi non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro continente resti ancora a lungo fuori dalla Casa Comune Europea ed è la ragione per la quale l'Italia continuerà a battersi in prima linea affinché il processo di integrazione europea dei Balcani Occidentali possa proseguire con ancora più slancio e determinazione. Sono fermamente convinta della complementarietà tra il nostro sistema economico nazionale e quello dei Paesi dei Balcani Occidentali e sono convinta della possibilità di sviluppare forme vincenti di cooperazione industriale e commerciale tra le due sponde dell'Adriatico. La sicurezza e la crescita di tutti i popoli dei Balcani Occidentali sono fondamentali per l'interesse nazionale dell'Italia. Per la nostra nazione non si tratta di puntare su un partner e poi su un altro per successivamente ignorare tutti. Non è questo quello che ci viene chiesto e non è questo quello che dobbiamo fare. Siamo stati sempre solidari con ciascuno dei nostri vicini nei momenti di difficoltà e siamo a fianco di tutti nel lavoro per una crescita condivisa nella sicurezza. Tutto questo non può che avvenire all'interno di un contesto europeo. Per questo ci battiamo per un'integrazione regionale nell'ambito di un processo di adesione all'Unione Europea di tutti gli Stati della Regione e crediamo che sostenere la stabilizzazione e la piena integrazione europea significhi lavorare per una cooperazione nella lotta alla corruzione, nel contrasto ai traffici illegali, nella gestione e nel contenimento dei flussi migratori irregolari, nella prevenzione e nel contrasto del radicalismo in ogni sua forma.